La città di Baoshan, situata nella provincia meridionale cinese dello Yunnan, è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.2. La scossa si è verificata alle 23.27, ora locale, di martedì e ha causato danni ingenti, tra cui 2.800 case e altre infrastrutture danneggiate. Il sindaco di Baoshan ha riferito che l'evento sismico ha colpito le forniture di elettricità e acqua della città. Attualmente si segnalano 3 persone ferite e altre 11.000 evacuate. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a 25.35 gradi di latitudine nord, 99.28 gradi di longitudine est e si trovava a una profondità di 10 chilometri. Grazie. 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 Grazie.